... Ogni tanto escono delle proposte sulla gestione del mare. Sono tutte proposte tratte dalla stessa antologia. Cercare di salvare i balneari, tutte dalla stessa antologia. È come se rubassero una macchina, il vigile la trova indietro di sosta e dice che tu ti levi dal divieto di sosta e io ti condono il reato. No, il divieto di sosta è il codice della strada. Il reato, cioè l'abuso edilizio, è un reato penale. Non è la stessa cosa. Va comunque perseguito il reato penale. Oggi su Repubblica, purtroppo, Paolo Ferrara dice delle cose incredibili. Ti condono le cose se tu abbatti il lungomuro. No, il lungomuro lo devi abbattere. E non condoni niente, perché è la magistratura che si deve occupare di perseguire i reati di abuso edilizio.